Meghan Markle è stata elogiata dopo aver comprato il caffè per il personale come ringraziamento per il lavoro straordinario durante la campagna per il congedo familiare e medico retribuito negli Stati Uniti, i dipendenti di PLPUS, un gruppo che gestisce una campagna nazionale per vincere congedi familiari e medici retribuiti entro il 2022, hanno ricevuto un buono Starbucks da 25 dollari, 18 sterline, dalla duchessa del Sussex, una mossa descritta dal direttore delle comunicazioni del gruppo come incredibilmente di classe. Nils Roca ha scritto su Twitter, la duchessa del Sussex, alias Cancelletto Meghan Markle, ha comprato a tutti a chiocciola Paidolaveus qualche tazza di caffè mentre stiamo facendo gli straordinari per Cancelletto Save Paidlib. Davvero onorato di sapere che ci sostiene nella lotta per la vittoria. Meghan, 40 anni, ha acquistato i buoni tramite la sua e l'Archewel Foundation del principe Harry. Il gesto arriva giorni dopo un sorprendente coinvolgimento della duchessa nella politica degli Stati Uniti mentre scriveva una lettera aperta di 1030 parole al presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi e al leader del Senato Chuck Schumer chiedendo alle famiglie americane di ricevere un salario adeguato durante il congedo parentale. Ha chiesto un forte programma di congedo retribuito per ogni americano che sia garantito, accessibile e incoraggiato senza stigma o penalità. Dall'inizio della pandemia, ha sottolineato la duchessa, milioni di donne hanno abbandonato la forza lavoro per provvedere ai propri figli, parlando della sua infanzia, Meghan ha sottolineato quanto duramente i suoi genitori avessero lavorato e che si fosse sentita. Fortunata a mangiare un'insalata da 4 dollari e 99 centesimi a Hitler. Ha aggiunto, ho iniziato a lavorare, presso il negozio di yogurt gelato locale, all'età di 13 anni. Ho servito ai tavoli, babysitter e lavori frammentari insieme per coprire le cianfrusagne. Ho lavorato tutta la mia vita e ho salvato quando e dove potevo, ma anche quello era un lusso, di solito si trattava di sbarcare il lunario e avere abbastanza per pagare l'affitto e fare benzina nella mia macchina.